Buongiorno, io oggi sono come conclusione della mattinata, parlerò di un sistema fortificato decisamente decentrato rispetto a quest'area, che però ha una valenza quasi didattica per quello che è il tentativo da parte italiana di realizzare fra fine 800 e inizio 900 uno sbarramento del nuovo confine determinato sia a conseguenza della terza guerra di indipendenza, in maniera tale da contemperare ovviamente all'italiana l'efficacia con il risparmio. Un tentativo che come vedremo non è riuscito, nel senso che se far convivere opere cosiddette del primo periodo, cioè le vecchie fortificazioni ottocentesche dello stile della tagliata o della batteria fortificata, con le nuove realizzazioni novecentesche, la batteria corazzata in pratica, si rivelò semplicemente un rappezzo che non portò del bene né alle prime, nonostante i tentativi di adeguamento che si susseguirono, né alle seconde che comunque ebbero alla prova del fuoco una dimostrazione di assoluta inutilità, in una prova del fuoco che peraltro nei fatti e in quel territorio mancò, anche se si verificò e fu la causa della dismissione, in territorio adiacenti. La fortezza Brenta-Cismone è quel complesso fortificatorio che venne realizzato, come dicevo, dopo il 1866 per chiudere il confine austro-italiano nella nuova acquisizione di quello che attualmente corrisponde al confine fra il Trentino e il Veneto, nella zona delle valli del Brenta e del Cismone. Già in epoca medievale la fortificazione nota come il covolo di Buttistone, di origine longobarda, chiudeva il canale di Brenta nel punto più stretto, circa 200 metri di ampiezza, ma non poteva ovviamente in epoca moderna rappresentare un vero e proprio ostacolo. L'area, il cosiddetto settore Brenta-Cismone, era identificato in questa zona orientale di quello che era considerato all'epoca dagli italiani e austriaci il saliente tirolese, quel cuneo minacciosamente proteso verso il cuore della pianura veneta e lombarda che rappresentava l'incubo degli strateghi italiani. Incubo che nel settore Brenta-Cismone si concretitava in questo senso, cioè un'offensiva che puntando verso Venezia o verso la pianura potesse tagliare fuori tutta la porzione orientale neoacquisita con la terza guerra di dipendenza del paese. Ecco allora che le due valli del Brenta e del Cismone rappresentavano due vie di penetrazione verso Bassano e la pianura, l'una provenendo dalla valle del Cismone dal passo di Rolle, l'altra dalla Val Sugana, da Trento in pratica, come via già percorsa peraltro da Napoleone durante le sue invasioni di fine Settecento. E allora lo sbarramento di questa area alla confluenza fra le valli del Brenta e del Cismone venne iniziato dopo ovviamente l'acquisizione del territorio nel 1866. Il Veneto passò all'Italia e si cercò di chiudere questo confine ma le carenze di fondi procrastinarono questa fortificazione fino agli anni Ottanta dell'Ottocento, anni nei quali si decise che la prima cosa da fare era chiudere la valle nel punto più stretto replicando quello schema che avete visto prima del covolo del Buttistone, questa fortezza scavata nella roccia, con un qualcosa che però doveva essere adeguato ai tempi, al 1800 perlomeno. E fu questo, mentre il covolo lo vediamo in lontananza in questa posizione sulla parete rocciosa, venne realizzato il cosiddetto forte Tombion, sempre anch'esso in una zona che vedete era paragonabile più a un canyon che a una valle vera e propria, con le caratteristiche della classica tagliata ottocentesca, un'opera in pietrame con coperture in terra che messa di traverso sulla strada nazionale sbarrava il transito. In questa immagine che lo spionaggio austriaco prontamente realizzò negli anni ancora della costruzione, grazie alla prudenziale commissione di operai provenienti dall'impero nella realizzazione dell'opera, perché l'Italia cercava operai civili a buon prezzo e dalla valsugana austriaca questi arrivavano a frotte e fra essi venivano frammischiati ovviamente ufficiali dello spionaggio austriaco. Questa è una realizzazione, un'immagine di come si presentava la struttura, un'opera casamattata con una fronte verso la direzione del confine, quindi Primolano e Trento, quindi dalla provenienza possibile dell'avversario, una fronte rivolta verso il territorio italiano, verso la conca di Cismon e una struttura centrale per l'alloggio delle fanterie. Tre strutture casamattate, la centrale come alloggio e i blocchi delle batterie a nord e a sud. Ovviamente si trattava di strutture casamattate, opere in pietrame con le caratteristiche della tagliata. La strada aveva questa direzione di transito, le casamatte in muratura avevano la caratteristica, possiamo anche dire la fregatura, che l'arma ospitata nelle casamatte attraverso le cannoniere poteva agire solo frontalmente, quindi in direzione della provenienza dell'avversario oppure a protezione del fronte di gola. Le artiglierie che venivano posizionate erano ovviamente le artiglierie da 149 mm o da 75 su affusti da fortezza che operavano attraverso cannoniere protette da piastre in pietrame, decisamente ampie e quindi facilmente imboccabili dal tiro nemico, che per necessità erano aperte posteriormente per garantire lo sfogo dei fumi degli spari che altrimenti avrebbero rapidamente saturato e reso irrespirabile l'aria interna. L'affusto da fortezza aveva le caratteristiche di ancoraggio tramite un rocchio metallico alla parete e permettendo un ritorno in batteria in posizione dell'artiglieria dopo il fuoco. Chiaramente la tagliata del tombion, come tutte le tagliate, insisteva sulla strada che doveva bloccare e quindi era piazzata nel punto dove correva la strada, sul fondo della valle e quindi era una posizione assolutamente svantaggiata venendole a mancare un appoggio dei rilievi laterali. Appoggio che si pensò di procurare già verso l'85-86 quando si completavano i cantieri del tombion, con la realizzazione di una batteria fortificata sul rilievo soprastante, la cosiddetta batteria di Col del Gallo, questa è la stazione di Cismond del Grappa, il forte tombione è in questa posizione nel canale di Brenta, sulla sommità del Col del Gallo vennero realizzate due appostamenti per artiglierie in barbetta, quindi su affusto d'assedio, affusti campali in pratica, che operavano su una specie di forte in terra, cioè un'opera con parapetti attraverso i quali le artiglierie operavano allo scoperto, che garantiva la protezione lontana contro le provenienze che avessero potuto minacciare il forte tombion più in basso. La disponibilità di fondi in quel periodo permise anche la realizzazione di uno sbarramento nella valle del Cismond, che ovviamente dove necessitava uno sbarramento a se stante perché il torrente Cismond sboccava nel canale di Brenta alle spalle, a valle, dello sbarramento rappresentato dal tombion, ma qui, anche qui la posizione era un canyon molto ristretto, lo potevamo vedere, e l'interruzione stradale poteva essere realizzata tramite una fortificazione che pur con le caratteristiche della tagliata dimensionalmente era estremamente ridotta e anche a buon prezzo, diciamo così, era più che altro una caserma difensiva quasi, la tagliata del covolo di Sant'Antonio che poteva interdire la strada con un appostamento per modestissime artiglierie e che si avvantaggiava soprattutto della sua posizione e che ben difficilmente, vista la realizzazione incengia scavata a colpi di esplosivo nella roccia su una parete strapiombante dove transitava la strada, ben difficilmente dicevo avrebbe potuto diventare oggetto di tiro delle artiglierie avversarie. Peraltro anche il campo di tiro delle piccole artiglierie che la equipaggiavano era estremamente limitato, a qualche centinaio di metri lungo le due direzioni della strada. A completamento dello sbarramento delle due valli venne realizzata fra la fine degli anni Ottanta e l'inizio degli anni Novanta quello che era la perla, diciamo così, dello sbarramento del Cismont nel primo periodo fortificatorio, ovvero sia il complesso fortificato nella conca di Primolano, un complesso fortificato che si articolava su due opere ben strettamente connesse e che andava a bloccare con duplice funzione sia la conca, quel tratto di canale di Brenta che rappresenta appunto la conca del villaggio di Primolano, sia la sella di Fastro dalla quale scendono le provenienze dalla vicissà di Feltre. Quindi anche una confluenza, però una fortificazione da costruire in questa posizione richiedeva cosa? Di essere bassa sulla conca della Brenta per controllare il transito nel fondo valle e quindi con le caratteristiche di una tagliata, ma anche al tempo stesso alta sui rilievi soprastanti per controllare le provenienze dal Feltrino. E questo venne realizzato fra il 92 e il 95 con il complesso della tagliata scala e dell'opera Fontanelle, due strutture che costituivano un'unica fortificazione connessa da una poterna di collegamento che poteva diventare un appostamento per fucilieri e che costituivano quello che lo stesso inventore o meglio progettista, l'architetto Giovanni Ivanov di origine russa, chiamò Unjano Bifronte, un'opera alta sulla valle nella sua batteria che batteva le provenienze da Feltre, ma al tempo stesso bassa sulla conca di Primorana per controllare il transito lungo il canale di Brenta. Ecco l'opera, una fronte verso la Val Sugana, la batteria principale con la galleria di fucilieri che bloccava la sella di Fastro, e un'opera alta con artiglierie in direzione della provenienza da Arsie. Lo spionaggio austriaco non mancò chiaramente di realizzare i suoi rilievi, che già nel 1896 erano estremamente interessanti per chiunque avesse voluto studiare il complesso difensivo, e l'interno ci rivela le stesse caratteristiche che abbiamo visto dal tombion, case matte aperte posteriormente, opere in pietrame con coperture in terra vagliata di un metro e mezzo, ampi spazi con delle case matte con cannoniere ristrette con muri dello spessore di tre metri, sempre in pietra, attraverso le quali vennero messe in opera le prime mitralettrici Gardner, ad alimentazione meccanica, che vennero acquistate negli Stati Uniti e ricalibrate in calibro 10,5 Vetterli, e artiglieri di piccolo calibro perché ci si rese conto che nonostante la realizzazione di postazioni per pezzi da 120 mm, che in realtà tutto quello di cui si aveva bisogno erano pezzi che non tanto avessero un calibro rilevante quanto avessero una cadenza di tiro elevata, perché dovevano semplicemente battere i vari tornanti della strada che saliva e che del forte era interdetta. Ecco allora il canone da 42 mm a tiro rapido rappresentava l'ipotesi ideale, anche se le pareti delle case matte ci mostrano come all'interno di queste fosse destinata la collocazione di artiglierie, pure su affusto campale, di calibro maggiore, che avevano avuto, come dimostra già la diversa profondità degli incavi destinati a cogliere le ruote, la possibilità di essere orientate, appunto per la difesa profondità degli incavi in direzioni specifiche per battere i diversi tornanti della strada. La poterna di collegamento blindata che saliva al forte superiore, la tagliata o batteria delle fontanelle, è ancora oggi perfettamente percorribile ed è un gioiello dell'architettura militare dell'epoca e conduce appunto ai resti della tagliata delle fontanelle che rappresenta il complesso superiore, l'arrivo della poterna di collegamento in questa posizione e non si si trattava di un'opera con carattere quasi medievale, con una torre della direzione di tiro che in realtà si elevava come un castello medievale appunto dal territorio circostante, dal quale avrebbero dovuto essere coordinate le azioni dei pezzi di artiglieria della batteria su quattro cannoni da 120 mm destinati ad agire nella direzione di Fastro, Arsie e Feltre. Ecco qui le aperture delle cannoniere sul fronte verso Feltre e il retro delle cannoniere, delle case matte, ovviamente aperto per garantire lo smaltimento rapido dei fumi dello sparo. 1896, sconfitta di Adua, disastro di prestigio ed economico per l'esercito italiano, questo comporta uno stop improvviso all'attività fortificatoria e si interrompe con il 1896 il primo periodo fortificatorio che per il settore Brentacismon aveva visto la nascita delle fortezze che avete potuto osservare. Dieci anni quasi passano fino al 1905-1906 quando ci si accorge che il progresso delle artiglierie che già a fine 1800 aveva fatto nascere quasi obsolete le opere che avete visto precedentemente dal punto di vista della resistenza al tiro, aveva reso praticamente assolutamente inutili quegli scatoloni di pietra e terra vagliata che avete potuto osservare e era necessario adeguare le difese confinarie ai tempi e al progresso dell'arte del combattimento. Ecco allora la comparsa dei forti corazzati sui quali non ci dilungheremo per quanto riguarda le caratteristiche se non per quanto riguarda una singola caratteristica che si contrappone a quello che abbiamo considerato a carico del forte tombion. Qui abbiamo casamatte non più in muratura ma casamatte in acciaio, casamatte girevoli e quindi a differenza del forte tombion delle tagliate sulle quali le casamatte in muratura permettevano l'azione dell'artiglieria in una sola direzione, abbiamo la che la singola arma nelle casamatte a cupola girevoli può agire su 360 gradi. La prima pietra, diciamo così, la prima realizzazione di questo nuovo periodo fortificatorio, la seconda fase fortificatoria dello sbarramento per entegismo viene posta dal detenente colonnello Dalfabro, prima capitano che come direttore lavori opera su cima campo a 1200 metri di quota che realizza la prima di queste nuove batterie corazzate di confine che può godere, visto che in questo settore è l'unica in quel periodo 1905-1906 di una inusitata, per lo Stato italiano, disponibilità di fondi che ovviamente fa sì che i deliri di grandezza prendano la mano anche il direttore dei lavori e ai progettisti realizzando un'opera corazzata che avrà un contraltare paragonabile solamente nel forte di Punta Corbin di cui sentirete parlare domani sull'alto piano dei Sette Comuni, un forte che rispetto alla classica batteria corazzata che siamo abituati a vedere sui forti degli altipiani, ad esempio Forte Verena o altri, rappresenta veramente un'opera di megalomania, una cittadella corazzata quasi in cui il banco delle artiglierie ospita sei torrette Armstrong, sei installazioni Armstrong per canoni da 149 con la torretta osservatorio centrale. Il blocco delle casamate è separato con un complesso di strutture per il combattimento della fanteria, un fossato che circonda l'opera dove è possibile e del quale analizzeremo poi le caratteristiche. In pratica, in uno spaccato dell'opera, vediamo come appunto la batteria sia ospitata alla sommità del rilievo montano, sia alimentata attraverso dei vagoncini su un binario scartamento ridotto e con elevatori che garantiscono il rifornimento della polveriera che vedremo dopo. La batteria consiste in installazioni Armstrong del peso di circa 99 tonnellate che rappresentano il classico, solito punto debole delle opere di questo periodo italiane, soprattutto nell'assottigliamento terrificante e pericolosissimo della copertura laddove le rampe d'accesso ai pozzi si innestano all'avancorazza della cupola. Installazioni Armstrong che ben conoscete, sulle quali non mi dilungo, che però rappresentavano solamente il punto focale dell'opera che era circondata, prevedendo una guarnigione consistente, da una struttura per il combattimento della fanteria a distanze ravvicinate e che si presentavano e si presentano ancora oggi perfettamente conservate con delle postazioni in calcestruzzo che circondano l'intera sommità dell'opera con piazzolle nelle quali potevano essere messe in opera su tre piedi appositamente conservate all'interno dell'opera le mitralettrici Gardner affiancate a mitralettrici Perino e Maxim in quel periodo. L'opera però aveva altre caratteristiche interessanti che sono ad esempio le dotazioni, sempre per il combattimento ravvicinato, di armi automatiche in strutture corazzate, blindate diciamo così, torrette retrattili che ospitavano le mitralettrici Gardner su a fusto conico che potevano essere elevate o abbassate meccanicamente, sempre meccanismi operati manualmente e che garantivano la possibilità di proteggere relativamente queste strutture dal bombardamento avversario e di farle emergere al momento opportuno. Il tenente colonel Dalfabro qui si fa fotografare presso l'opera testerealizzata nell'inverno 1911 e abbiamo detto che l'opera era incontrata da un fossato, classico fossato che già dal Medievo accompagnava le opere fortificate, che però per la caratteristica del rilievo non dappertutto poteva essere realizzato. Il fianco sudorientale dell'opera infatti si affiancava a un rilievo che non permetteva lo scavo e che quindi dovrebbe essere protetto in maniera diversa. In pratica il fossato circondava tutta questa zona, compreso il fronte di Gola, ma questo tratto era appunto in contropendenza e non poteva essere protetto da un fossato. Ecco allora che si ricorse a quella che era la cancellata di scarpa, la cosiddetta barriera a grata, che era costituita da una palizzata alta 4 metri con spuntoni di 1,40 m rivolti verso l'esterno, infissi a distanza di 10 cm l'uno dall'altro, che impediva ovviamente l'avvicinamento a qualsiasi fante avversario malintenzionato. La direzione di tiro delle mitelatrici in torrette retrattili era posizionata tramite una cupola protetta con un periscopio che permetteva di dominare il territorio a 360 gradi. Un ponte retrattile con un cancello sblindato proteggeva il fronte di Gola dell'opera e l'opera aveva al suo interno la polveriera sotterranea, il cui accesso è qui fotografato in questa immagine, protetta in calcestruzzo, e trasformava l'opera di Cimacampo nel primo importante caposaldo corazzato del nuovo periodo fortificatorio, accanto al quale si creò la fortezza gemella fra il 1909 e il 1914 del forte di Cimacampo, che venne realizzato rendendosi conto che buona parte delle risorse destinate alla costruzione dell'opera su questa sommità erano state drenate dalla costruzione del forte di Cimacampo. Ecco allora che le ambizioni cominciano a ridursi, il blocco delle artiglierie, la casamatta delle artiglierie e la casamatta della guarnigione vengono sovrapposte per risparmiare sulla costruzione, le torrette retratili per le armi automatiche diventano quattro da sei che erano, le cupole diventano quattro da sei che erano per le artiglierie, la polveriera sotterranea viene realizzata all'esterno dell'opera, che ha un perimetro nettamente inferiore a quello del forte precedente. Le quattro cupole vengono montate con installazioni Armstrong e saranno fra le ultime che verranno montate, in quanto ci si accorge rapidamente che per equipaggiare le 114 opere che lungo il confine italiano alpino erano state commissionate a partire dal 1906, non sono sufficienti le cupole commissionate alla Vickers Armstrong di Napoli, per cui accorgendosi tardivamente che mancano cupole e installazioni a pozzo, gli italiani devono acquistarle in Francia dalla Dieter Schneider, pagando ovviamente fior di quattrini. La realizzazione di Forte Cimalan prosegue sempre con una tendenza al risparmio rispetto al dispendio di Cimacampo, ma in ogni caso l'opera ci mostra, in queste caratteristiche di fotografia interessantissime, mantiene le caratteristiche tradizionali con il binario a scartamento ridotto per lo spostamento delle munizioni nel corredore di batteria, i meccanismi inoltre dei proiettili ai pozzi operativi, il gruppo elettrogeno destinato a fornire, alimentato a cherosene, la energia elettrica per l'opera, opera che ha le sue caratteristiche principali interessanti nella polveriera esterna tutt'oggi visitabile, che scende sotto il fossato, la polveria, con una scalinata ancora oggi percorribile, dopodiché strisciando un po' in pancia si arriva alla polveriera sotterranea, ancora a parziale rischio di crollo, ma interessantissima in quanto in questo Forte per la prima volta si realizza l'accesso diretto dalla strada di collegamento alla polveriera lungo un tunnel di 150-180, metri che evita, permettendo l'accesso diretto del materiale alla polveriera, di far transitare pericolosamente all'interno dell'opera gli esplosivi prima del rifornimento della stessa. Cimacampo e Cimalan rappresentano quindi le prime due opere alle quali si affianca, al di là della valle, il forte di Montelisser che verrà realizzato a partire dal 1911 e la cui costruzione guarda ancora più al risparmio, da quattro diventano due le torrette retrate per le metri elettrici, si mantengono le quattro cupole che però questa volta devono avere installazioni Schneider perché hanno finito le cupole Armstrong gli italiani, se ne sono accorti troppo tardi. La polveriera è posteriore, interrata anche in questo caso, con il risultato che abbiamo tre forti via via di pretese sempre minori, di tipo moderno, che però un po' alla volta esauriscono i fondi e a questo punto ci si accorge di un'altra cosa, che più che il cemento e soprattutto il cemento non armato delle coperture dei forti italiani, la protezione può essere garantita forse a costi anche minori dalla roccia. Ecco allora che nasce quella che è l'ultima opera fortificata di questa storia, la batteria di Coldarco, che va a integrare l'handicap principale della vecchia tagliata ottocentesca della scala di Primolano, che aveva il pregio di essere in una nicchia del canal di Brenta e quindi defilata, ma che aveva anche lo svantaggio, proprio per la sua posizione, di avere un campo di tiro, che peraltro andava benissimo per una tagliata, molto limitato dal punto di vista della gittata, perché le curve del canal di Brenta rendevano impossibile agire contro la direzione di provenienza delle potenziali eruzioni austriache dalla Val Sugana in direzione nord-ovest. Realizzando l'opera di Coldarco, la batteria in caverna di Coldarco in questa posizione, divenne immediatamente possibile battere le provenienze austriache, come mostra questa immagine, che identifica dal paese di Grigno, in territorio austriaco, la piana di Grigno dove sarebbero concentrate le eventuali forze di invasione austriache, ci mostra la posizione della batteria di Coldarco e la sua possibilità di tiro. Ovviamente questo era quanto prevedeva la possibilità che era preclusa invece alla tagliata della scala, delle fontanelle, che era dietro a questo sperone roccioso, protetta dal tiro ma anche incapace di operare in direzione del territorio austriaco. E come si presentava? Era una batteria in caverna, un ingresso che dava accesso a un corridoio pavimentato in cemento bocciardato, sul fianco del quale si aprivano delle case matte scavate nella roccia con delle cannoniere protette da scudi d'acciaio. Ma il progresso dei tempi e l'arrivo anche della ferrovia in Val Sugana non furono sufficienti a far dismettere con l'arrivo delle nuove batterie corazzate il vecchio. Si cerca, anzi, per garantire comunque una protezione sui fondovalle, perché le opere nuove erano state costruite sui rilievi, di garantire una protezione al fondovalle stesso, adeguando le vecchie tagliate. Il tombion, anziché essere demolito per garantire il transito della ferrovia attraverso la valle, venne modificato addirittura realizzando in parte una galleria artificiale nella quale vennero riportate le strutture difensive precedenti, al di sopra della quale vennero riportate le strutture difensive, dicevo, e trasformando addirittura il tunnel ferroviario in un fortino addizionale con dei cancelli blindati destinati con uno spessore di 10 cm rivestiti di acciaio, di cemento colato, cioè riempiti di cemento colato, a resistere ai tiri dell'artigliere di piccolo calibro. Il tunnel, diciamo così, artificiale rappresentava quindi un'aggiunta all'opera fortificata e si inseriva bene nella struttura a fianco del vecchio transito carrabile. L'arrivo della guerra, teoricamente, avrebbe rappresentato la prova del fuoco per queste opere fortificate. La fregatura per il sistema fortificato quale fu? Che queste opere non avevano le rotelle sotto e quindi non potevano spostarsi. Il risultato qual era? Che avevamo delle opere corazzate, delle opere tagliate di vecchio stampo, la tagliata di Sant'Antonio, il forte di Cimalan, il forte di Cimacampo, la tagliata della Scala delle Fontanelle, la batteria all'aperto di Col del Gallo, il forte Tombion, la batteria Col d'Arco e il forte Lisser, tutte però rispetto al di qua del confine, non spostabili. Ma il confine era in questa posizione, il confine ital-austriaco. Nei primi giorni di guerra l'avanzata italiana portò le forze Rege ben addentro al territorio austriaco, schierandosi su una linea che mediamente distava dai 20 ai 25 km dalla linea di confine. Per cui nessuna delle opere, neppure forte Lisser o forte Cimacampo, per quanto equipaggiate con armi a buona gettata, avreva la capacità di sparare al di là del punto al quale erano arrivate le truppe italiane. Quindi i forti si rivelarono assolutamente inutili. Erano però estremamente ambiti come fonti di cosa? Di artiglierie, di armi automatiche, di scorte di munizioni, di equipaggiamenti e altro. Erano inutili in retrovia, perché non utilizzare questo materiale più avanti? La goccia che fece travocare il vaso, o meglio il peso messo sulla bilancia, che squilibrò la bilancia stessa a favore di un smantellamento graduale, che si diceva o non si diceva, di queste opere, fu la triste fine del forte Monteverena sugli altipiani, un forte con le stesse caratteristiche dei forti di Cimacampo, che preso sotto il tiro da un paio di mortai da 30,5 cm della scoda austriaci, fece una fine tremenda con la morte di una quarantina di artiglieri che, pur essendosi rifugiati nella parte più profonda e teoricamente più protetta dell'opera, vennero letteralmente spalmati sulle pareti del locale dalla penetrazione di un proiettile che perforò come il burro i due metri e mezzo di calcestruzzo non armato della copertura. I colpi del 305 erano in grado di mangiarsi via interi pezzi della fortificazione come mostrano queste immagini dell'opera di Monteverena fotografata dagli austriaci. Ma poiché gli austriaci nel corso della guerra erano in grado di mettere in campo armi sempre più potenti, come l'obice da montagna da 38 cm che sparava dei proiettili del peso di 800 kg che potevano attraversare 4 metri e mezzo di cemento armato prima di esplodere. Immaginatevi su 2 metri e mezzo di cemento non armato cosa poteva succedere. Gli effetti che provocavano erano questi, sempre sui forti degli altopiani. Quella che veniva chiamata dagli austriaci della propaganda la grossa aberta, che nulla ha a che fare con la vera grossa aberta, era un obice da costa da 42 cm di diametro che sparava su posti di questo tipo che potevano attraversare 6 metri di cemento armato prima di esplodere. Con il risultato che intere sezioni di un'opera fortificata italiana sparivano, come in questo caso. Il motivo qual era? Era questo, che i proiettili, contrariamente a quello che si pensava quando i forti italiani vennero testati con proiettili da 149 mm, proiettili del tipo che avete visto voi precedentemente, anche impattando la superficie in cemento senza che fosse necessario che impattassero la zona a minor spessore, penetravano come il burro e le strutture protettive, attraversavano i locali interni, i vari piani ed esplodevano solamente dopo essere penetrati nel sottosuolo, con il risultato che si trattava dell'effetto, in questi casi dell'esplosione, come di una mina, cioè di qualcosa che agiva dall'interno verso l'esterno, sventrando il forte da una direzione contro la quale non era previsto che esso dovesse resistere particolarmente. La amara prova di Forte Verena fece sì che anche le armi nelle cupole di Forte Cimacampo venissero, diciamo così, fagocitate dalla necessità dell'esercito permanente in prima linea. Ecco allora lo smontaggio e lo svuotamento delle cupole che vennero decorate, per così dire, con tronchi d'abete verniciati di nero, come mostrano questi bipedi che sorreggono i tronchi sotto le cupole e in questa immagine che ci mostra nel 16 anche una parte della famosa barriera a grata di cui abbiamo parlato precedentemente. Le artiglierie vennero messe su a fusti da sedio e ovviamente impiegate con un'attività di tipo campale, ma alla stessa sorte ebbero le armi di Cimalan, come vediamo in queste opere, che vennero smontate, calate, portate all'esterno dell'opera fortificata e utilizzate altrove. L'arrivo della battaglia di Caporetto, che vide lo sfondamento del fronte italiano in una zona completamente lontana dal settore Brenta Cismon, sul quale le opere di cui abbiamo parlato insistevano, apparentemente non ebbe inizialmente grosse ripercussioni, ma l'evoluzione dell'offensiva austro-tedesca, portando al dilagare delle forze avversarie nella pianura friulana prima e poi oltre il tagliamento nella pianura veneta, oltre ad obbligare a una disperata e frenetica ritirata la terza armata del Duca d'Aosta lungo il litorale e il ripiegamento delle truppe dalla Carni e dal Cadore, per evitare di essere prese fra due fuochi, fra le truppe avanzanti da est e le forze austriache del Tirolo, obbligò anche le truppe che schierate nel settore di Val Sugana e del Canal di Brenta a un ripiegamento forzoso per attestarsi poi su quella linea che appunto per la sua minore estensione permise, nonostante le enormi perdite in uomini e materiali, di ripristinare un fronte difensivo sul fiume Piave e sul Monte Grappa. In questa condizione ovviamente anche il ripiegamento delle truppe dalla zona di Val Sugana e del Canal di Brenta era obbligato, un ripiegamento nel quale una volta tanto le opere di confini avrebbero potuto diventare utili, un ripiegamento però che trovò queste opere ridotte a semplici scatoloni di cemento e pietra perché ormai completamente svuotate e disarmate. La ritirata quindi avvenne potendo utilizzare queste opere solo come dei potenti caposaldi per fanteria però privi di armi sia di artiglierie come mostrano le cupole vuote di Forte Lisser sia di armi automatiche come mostra la cupola abbandonata in elevazione per armi automatiche tipo modello Gardner che Forte Lisser aveva in una coppia. Forte Lisser venne abbandonato e gli austriaci si facevano fotografare presso i segni dell'azione delle artiglierie austriache dell'anno precedente sul Forte stesso. La tagliata del Covole Sant'Antonio fu paradossalmente l'unica, una delle poche opere che, diciamo così, mise a dura prova l'avanzata austriaca resistendo per un'intera giornata e venendo poi fatta esplodere prima della ritirata dagli italiani l'esplosione sfogandosi contro la parete rocciosa sparò letteralmente nel torrente Cismon tutta la fortificazione tal che qualche mese dopo l'opera si presentava assolutamente scomparsa la nicchia che la accoglieva era questa, il ripristino della trans da parte austriaca aveva cancellato ogni traccia e effettivamente non venne praticamente più traccia. Cimalam precedentemente svuotata dai materiali venne fatta esplodere dagli ingegneri italiani innescando le cariche degli esplosivi di riserva nelle riservette munizioni fra una cupola e l'altra e gli austriaci la trovarono completamente sventrata. A Forte Leone su Cimacampo quasi al completo un battaglione alpini, il Monte Pavione, si sacrificò per rallentare l'avanzata austriaca, venendo però intrappolato all'interno dell'opera, già minata e ovviamente non facendola brillare, così che l'opera cadde con le sue cupole peraltro vuote o meglio decorate dai tronchi da bete verniciati di nero in mano austriaca in condizioni praticamente di piena efficienza se non fosse per l'assenza delle cupole, tal che il giorno dell'occupazione gli ufficiali austriaci si fanno fotografare, siamo al 12 novembre 1900 e qui siamo il 13 novembre 1917 e nella primavera successiva addirittura l'imperatore Carlo d'Asburgo si reca in visita ovviamente a scopo propagandistico presso le vuote cupole del forte che era caduto praticamente intatto in mano austriaca. La tagliata di Primolano non oppone alcuna resistenza, i genieri italiani fanno brillare le strutture principali prima di andarsene e anche essa, assolutamente inutile per la sua posizione, diviene semplice luogo di transito e di pose fotografiche per le forte austriache. La batteria delle fontanelle subisce la stessa sorte coinvolgendo nell'esplosione nella sua distruzione tre austriaci che incautamente hanno anticipato le proprie colonne d'attacco e avventurandosi nel fossato proprio quando l'opera viene fatta brillare dai genieri italiani e perdendo in due mi pare la vita. L'opera è completamente distrutta e l'ultima opera a cadere in mano austriaca semidistrutta sarà quella che era stata costruita per prima, la tagliata del tombion che sul fondo valle chiudeva il canale di Brent nel suo punto più stretto. Il brillamento delle cariche di esplosivo non riesce a distruggere completamente l'opera a causa della cattiva qualità e della conservazione in ambiente umido delle cariche stesse, si mantiene intatto il tunnel ferroviario che spetterà poi al caso, nella veste di un'accidentale esplosione di un treno di munizioni, a distruggere. Ma queste sono foto che prima della distruzione del transito della galleria stradale gli austriaci possono fare presso la porta carraia della tagliata del tombion subito dopo la sua occupazione. Ovviamente per quanto parzialmente in condizioni decenti, qui lo vediamo dopo l'esplosione del treno di munizioni davanti al tunnel ferroviario, l'opera non poteva avere un ruolo particolarmente importante per la sua posizione che era solamente una via di passaggio verso il fronte del Monte Grappa e quindi divenne un semplice posto di soccorso e infermeria dei feriti austriaci che scendevano appunto dal calvario del Grappa. E con la trasformazione dal luogo di combattimento al luogo di sofferenza del primo forte a nascere, dell'ultimo a cadere, finisce senza la prova del fuoco quell'improbabile coacervo di fortezza eterogene impostato dal risparmio ma che non ebbe neppure la soddisfazione di dimostrare se chi l'aveva concepito aveva avuto ragione o torto. Io vi auguro buon appetito perché è ora di mangiare. Grazie.